Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua anche oggi con un nuovo video e oggi siamo qua con la seconda classifica lol omg visto che due giorni fa vi ho pubblicato la classifica delle lol omg più belle oggi siamo qua ovviamente con la classifica delle lol omg più brutte. Quando devo fare queste classifiche sono sempre abbastanza spaventato perché so che poi i commenti spesso si scatenano ad insultarmi a dirmi che non capisco niente e vabbè insomma io me ne frego come al solito ovviamente è tutto soggettivo ve lo ripeto e ve lo ripeterò all'infinito quindi una cosa che piace a me può non piacervi e viceversa e quindi oggi guardiamo le lol omg secondo me più brutte. Vi dico che probabilmente sto guardando la mia classifica molti di voi non saranno d'accordo per alcune cose ma direi quindi di iniziare subito con la decima posizione. Alla decima posizione ho deciso di inserirne una che non è propriamente brutta però ha un qualcosa che non mi convince per niente e sto parlando di roller cheek. È carina, mi piacciono i colori, mi piacciono anche abbastanza i capelli, mi piace l'idea che sia sui pattini ma non lo so forse tutto questo insieme di colori, questo ammasso di colori fluo forse mi risulta un po' stucchevole, un po' too much non lo so avrei forse preferito una cosa leggermente più sobria. Ok parlare di cose sobria con le lol omg è quasi un'eresia però mi rendo conto che a me forse un po' più sobria sarebbe piaciuta di più quindi è entrata di diritto ma proprio così di testa nella classifica delle lol omg più brutte alla decima posizione. Passando invece alla nona posizione forse questa molti saranno d'accordo con me e forse molti l'avrebbero messa anche più in alto e sto parlando di Groovy Babe. Beh l'ho recensita come più o meno tutte quelle di cui vi parlo, nel frattempo infatti vi lascerò qui sopra schede, le lascerò in fondo al video non lo so comunque troverete le mie recensioni dove volete. Groovy Babe non è una vambola che non mi piace, la trovo comunque diversa dalle altre avendo due colori bianco e nero se colori si possono definire realmente ma forse avendo solo questi due colori mi risulta un pochino staccata da quello che è la linea omg. Mi risulta un po' la pecora nera non so come spiegarmi, il brutto anatroccolo che quella che non c'entra molto con tutte le altre. Presa singolarmente mi piace, messa insieme al resto ni e comunque anche singolarmente avrei forse aggiunto qualche accessorio, qualche dettaglio, anche rimanendo nel bianco e nero che purtroppo non ha e me la rende veramente troppo semplice. Ma non il semplice di Class Press che vi ho menzionato nello scorso video o di Busy BB ma proprio semplice, sempliciotta, mi sa quasi da cosa fatta in fretta, da bambola realizzata, disegnata e ideata in fretta, non lo so. Andando subito, subito, subito all'ottava posizione, troviamo Alt Girl della serie 2. Lei ha un paio di difetti molto grossi, gli occhiali che sono qualcosa di terrificante e i capelli che hanno un giallo color caccamolla che mai avrei immaginato di vedere su una bambola. Il colore di quei capelli con quelle mesh è proprio proprio brutto. I capelli sono morbidissimi, sono super lisci, scivolano un sacco, probabilmente sono anche da lavare un pochino appena arriva, non lo so, adesso non voglio entrare in questi discorsi, ma hanno un colore che è terrificante. Poi per il resto non è male, però vi giuro ragazzi, quei capelli io non riesco a sopportarli, non riesco ad andare oltre a quella cosa quando la vedo e sarà che queste bambole hanno tantissimi capelli e che quindi fanno un sacco colpo d'occhio, ma lei ha questo colore che è terribile e quindi eccola in questa classifica. Alla settima posizione invece abbiamo una LOL OMG Remix, quindi piuttosto recente, una quasi delle ultime uscite e sto parlando di Lone Star. Lone Star non è una brutta OMG, assolutamente. Trovo che sia fatta bene, trovo che abbia una sua coerenza, trovo che gli accessori, i vestiti, l'outfit vadano tutti molto d'accordo tra di loro, ma a me non piace lo stile country. È uno stile che non ho mai apprezzato né nella musica né nell'abbigliamento e di conseguenza non riesco ad apprezzarlo in una bambola. Non mi piace, non sto dicendo che non l'acquisterei perché comunque è fatta molto bene e alla vista risulta molto gradevole, anche a me, però non piacendomi lo stile proprio scelto per questa bambola. Non posso che metterla in una classifica delle più brutte perché purtroppo per me lo stile è uno degli stili più brutti e di conseguenza non c'è altro da aggiungere. Probabilmente per mio gusto l'avrei messa più su, in una posizione più alta, ma poi ho anche visto che ce ne sono altre che mi piacciono decisamente molto meno, che le trovo veramente molto più brutte e quindi intanto lasciamola qua. Alla sesta posizione troviamo un'altra remix. Questa volta però una remix non uscita singolarmente ma trovata nella box Super Surprise e sto parlando di Bad Girl. Nella recensione ve ne ho parlato benissimo e tuttora ve ne parlerei benissimo, però nella recensione ho cercato, come faccio sempre, di mantenermi anche leggermente neutro, cercando di guardare quello che è il dettaglio, quello che è la realizzazione e quanto può essere bella effettivamente senza senza metterci troppo gusto soggettivo. In questo caso ovviamente totalmente soggettiva una classifica e lei, per quanto ci siano dei dettagli che mi piacciono da morire, mi fanno impazzire, tipo gli scaldamuscoli pelosi, ci sono anche delle cose stilistiche che non mi fanno impazzire. Ad esempio la gonna fatta di quella specie di plastica non mi piace, non mi piace com'è fatta, per quanto sia fatta benissimo. Il fatto che le abbiano messo questa specie di imbragatura di plastica, che è difficilissima da fargliela indossare correttamente, con tutti i tamburi attaccati quasi la nascondono un pochino. I suoi occhiali non mi piacciono e quindi purtroppo nel complesso, per quanto sia una bambola veramente molto bella, che comunque mi piace perché alla fine della fiera bene o male un po' tutte le LOL AMG mi piacciono, ho dovuto metterla in questa classifica proprio perché ad impatto, guardandola nella sua completezza in vetrina assieme alle altre, è una delle ultime che mi viene da guardare. E questo mi rendo conto che non sia un complimento, anzi, perché se una bambola in vetrina noi la guardiamo tra le ultime, probabilmente è il nostro occhio che ci sta dicendo guarda che quella ti piace meno delle altre. Alla quinta posizione, inaspettatamente perché pensavo l'avrei messa molto più in alto, ma poi andando a numerare le dieci posizioni, cambiandole, sistemandole un pochino, si è ritrovata alla quinta magicamente, è Angles, Angles della serie Lights, che non lo so, la trovo di una semplicità disarmante, per quanto i suoi vestiti siano coloratissimi, che siano ispirati ai quadri di Mondrian, mi rendo conto che sia una bambola molto carina, ma ha di quei capelli che sono orrendi, non li riesco a digerire, e comunque nel complesso trovo che non abbiano omaggiato bene, diciamo, i quadri a cui si ispiravano. Avrebbero potuto, secondo me, secondo il mio modesto parere, fare qualcosina di meglio e fare qualcosina di più. Ed è una delle OMG che mi piace di meno in assoluto, ma che poi mi sono accorto piacermi di più di altre che stanno per arrivare. Infatti, alla quarta posizione, troviamo Oneilicious. L'unica cosa di questa bambola che mi piace, faccio prima a dirvi cosa mi piace, è il colore della pelle. Mi piace tantissimo il colore perché è molto scura, e sapete che ultimamente ho una predilezione per le bambole scure, ma odio i vestiti militari, la stampa militare. Quella a masso di treccine che le hanno messo, per quanto siano fatte bene, e anche molto meglio di quelle che hanno messo sul swag, comunque non mi piacciono perché queste valanghe di treccine, raccolte in altre due treccine fatte tipo a codine, con due treccine o quattro, non mi ricordo, qui davanti, che non stanno in nessuna posizione se non davanti agli occhi spiaccicate. Con appunto tutta questa fantasia mimetica non mi piace, non ci siamo proprio, per quello che è il mio gusto è una cosa terribile. L'ho anche trovata scontata e l'ho lasciata là. Penso che sia una delle poche OMG che non acquisterò mai neanche scontata, magari poi un giorno mi ricrederò, però attualmente proprio non la guardo neanche, nella mia testa non esiste. Adesso saliamo sul podio, saliamo sul podio delle più brutte e ragazzi ce ne sono due su tre che sono tanto brutte, ma secondo me sono di una bruttezza mai raggiunta in tutta la storia l'ho all'OMG. Ho fin paura perché immagino che una di queste sia tra le preferite, ma alla terza posizione io devo mettere Punk Girl, che effettivamente è nuovissima, sta proprio uscendo adesso in America mi pare. Non ho avuto modo di vederla dal vivo, ma ho avuto modo di vedere alcuni video, recensione, delle foto, mi sono documentato come faccio sempre per non parlare a vambera. E cazzo, ha un vestito che è molto bello, ma i capelli, cosa cazzo è successo a quei capelli? Io vorrei parlare con quello che ha ideato i capelli di Punk Girl e chiedergli cosa si è fumato. Perché è vero che vogliono riprendere lo stile Punk, è vero che vogliono riprendere i capelli colorati, un po' mezzi rasati, un po' lunghi, un po' raccolti, tutto quello che vuoi. Ma nello stile Punk ci sono capelli belli, seppur particolari. A lei hanno fatto un disastro. E quello che mi dispiace è che dal collo in giù l'outfit sarebbe anche veramente molto bello e fatto benissimo. Secondo me l'hanno distrutta, devastata, non lo so, con quei capelli sono una cosa che io non riesco a guardare. Piuttosto, ragazzi, mille volte ho nei lishus e mille volte i capelli di alt girl, giallo pannocchia, giallo pipì. Punk girl mi fa abbastanza cagare dal collo in su. E non riesco purtroppo a darle una posizione diversa, seppur i vestiti siano belli, la gonna secondo me è una delle gonne probabilmente più belle dell'OMG. Ma quei capelli non riesco proprio a non guardarli, in senso dispregiativo. Alla seconda posizione arriviamo con un'altra, che oserei dire artistica, da tanto brutta che è. Perché qui arriviamo su quelle che per me sono veramente brutte. Per non dire che schifo dico che è artistica. La trovo una brutta copia delle Monster High, la trovo senza senso, non lo so. E sto parlando di Missy Miao. Cosa ha di bello questa? Lo chiedo a voi, per chi non riesco a vederlo. Ha una cozzaglia di fantasie animalie che non c'entrano niente tra di loro. Ha il giubbotto. Il giubbotto è molto bello, è fatto molto bene. Forse è anche fatto meglio di tanti altri che ho visto fatti da Mattel in Barbie Signature. Il giubbotto, il bomberino, come volete chiamarlo, quello si è fatto molto bene. Però è nero, è semplice, non ha niente di wow da farle cambiare posizione. E invece ha queste fantasie animalie che sono tremende. La gonna sembra un sacchetto chiuso con un elastico in vita, un sacchetto trash. I capelli, vogliamo parlare dei capelli? C'ha ste cose in testa che non si capisce se sono degli odango, degli shignon. Non lo so. Sembra che una mucca gli abbia leccato i ciuffi e gli abbia spiaccicati in su con del gel. Io ho capito che dovrebbe ricordare le orecchie di un gatto, ma io ho una gatta che se le dovessi mai dire Liu, guarda che questa l'hanno fatta ispirandosi alla tua razza, la mia gatta mi distrugge se non si mette a vomitarmi sul letto come già fa, si mette a farlo un po' di più. Non lo so, io quello che ha avuto l'idea di questa Missy Miau... Non so cosa dire. È il bello che viene venduta con la sua lol piccolina, che è molto più carina, perché è una lol travestita da gatto con un cerchietto con le orecchiette. E a questo punto probabilmente avrei preferito 50 volte che non facessero una specie di Monster Eye con la faccia enorme dalla All Surprise, ma che mi facessero una ragazza, una Lolo MG, con, che ne so, un pigiamone da gatto, un vestito... non lo so, non so neanche come dirvelo, non so come salvarla questa cosa, è di una bruttezza rara, veramente è di una bruttezza rara. Appena l'ho vista, è stata la prima che ho visto delle Winter Chill, della linea Winter Chill, e mi sono spaventato perché ho detto, oh mio Dio, se tutte le Winter Chill sono su questo stile qua, io veramente mi metto a piangere. E invece fortunatamente era l'unica in queste condizioni. Ma togliamocela dalla testa e andiamo a parlare di qualcosa che probabilmente è ancora peggio. Alla prima posizione ho messo... Rocker Boy, uccidetemi come mi avete ucciso quando ho messo Punk Boy alla prima posizione nella classifica delle level più brutte. Rocker Boy, ragazzi, ho guardato anche di lui, come di Punk Girl, un sacco di recensioni, quelle che ci sono su YouTube, e... No. Per me è un grandissimo no. Perché? Perché non mi piace come hanno realizzato il viso, non mi piace che gli abbiano messo i capelli lunghi, non per un discorso di capelli lunghi. Perché, ad esempio, sto cercando di recuperare il Ken di Mattel con i capelli lunghi, quello che sembra un surfista, diciamo. Ma proprio per come li hanno messi, questi capelli lunghissimi, con la ciocchettina bianca, neri, lo fanno tetro. Non mi piace, non mi piace proprio la scelta del colore dei capelli, non mi piace il corpo, non mi piacciono i vestiti. Anche su di lui i vestiti sono fatti benissimo, ma l'unica cosa che mi piace realmente sono i pantaloni. Il resto proprio zero, lo trovo brutto. Trovo che MGA purtroppo, e spero di ricredermi con i prossimi maschi che usciranno, ma credo che purtroppo, se è riuscita a fare delle bambole super deformed, ma veramente super deformed, e farle piacere ad un vasto pubblico con le LOL OMG, la trasposizione maschile di queste bambole non le sia riuscita proprio perfettamente. Ma, lascio il ma, perché spero di ricredermi con i prossimi maschi che usciranno. In questo caso, però, ragazzi, io, Rockerboy... No, è brutto, è proprio brutto. E mi dispiace perché mi sono accorto che i primi maschi delle linee di MGA mi fanno sempre cagarissimo. E la cosa un po' mi dispiace, perché, insomma, vorrei avere anche io l'entusiasmo che hanno tanti nel dire wow, non vedo l'ora. Tipo adesso sta per uscire il nuovo maschio delle Rainbow High, sono tutti wow, non vedo l'ora, wow, non vedo l'ora. E io ogni volta, invece, mi ritrovo a dire oddio, vi prego, ditemi che non è vero. Più o meno questa è la mia reazione. Comunque, ragazzi, finita anche la classifica delle più brutte. Adesso voglio sapere, come l'altra volta, qui sotto in un commento, qual è per voi la più brutta. Io direi che mi sono spiegato anche troppo, non ho bisogno di ripetermi in nulla. Quindi, spero di avervi tenuto compagnia. Aspetto, ovviamente, i vostri commenti e aspetto anche qui sotto i vostri like, che sono, ragazzi, importantissimi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e seguitemi anche su Instagram. Io intanto, ragazzi, vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.